Sesta edizione del Premio Donna 2024, voluto dalla Ollus Antonio Padovani, un premio che ogni anno si tiene nel bellissimo scenario di Casale Signorini e che ha l'obiettivo di diffondere sempre più il rispetto e la tutela della donna da qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica. Un premio che ha assunto un carattere nazionale, che premia soprattutto il coraggio di donne che hanno sofferto ma che si sono ribellate e che hanno lottato. Un premio che celebra anche la rinascita. Il premio ha visto passare tante donne, ognuna con la propria storia. Quest'anno il premio, moderato dalla giornalista Monica Pelliccione, è andato a Daniela Di Maggio e Filomena Lamberti. L'obiettivo del premio che è dedicato a mio padre è proprio quello, è quello di dare forza alle donne, di farlo attraverso quelle donne che si sono distinte nell'ambito professionale oppure comunque hanno subito delle violenze e hanno reagito o a quelle donne che lottano ogni giorno a difesa dei più deboli. Daniela Di Maggio è la madre di Giovanni Battista Cutolo, detto Jojo, un giovane musicista napoletano ucciso per futili motivi, difendeva un altro ragazzo da un 17enne. Filomena Lamberti è la prima donna screggiata con l'acido dal marito nel 2012, voleva separarsi. Tantissimi interventi per sistemare il suo aspetto ma oggi dice sono libera e rinata anche se il mio viso non è bello. Dal buio ha saputo rinascere, subendo anche un processo ingiusto. Intanto io dico ai giovani che l'influencer giusto da seguire, perché lo dico proprio con i loro termini, in questo periodo storico è un ragazzo come Giovanni Battista Cutolo che aveva una cifra valoriale altissima, medaglia d'oro al valore civile, ha perso la sua vita per aiutare gli altri. In un'epoca in cui la prevaricazione prende il sopravvento su tutto e si sdogana questa immagine del prepotente, di quello il bullo, questo non va assolutamente perseguito. Oggi Filomena è una donna rinata anche con la mia identità violata, però io oggi sono una donna libera e per me la libertà va oltre a un volto bello. Ci sono stati gli anni che sono stata, non ero bella ma stavo bene con me stessa, però sinceramente non cambierei la vita da donna, diciamo normale se vogliamo dire così, da donna col volto sfregiato, perché io oggi vivo mentre per 30 anni ho sopravvissuto. Al dibattito hanno partecipato anche il presidente dell'ordine dei giornalisti e il commissario capo Piero Emidio Bianchi. Nel corso della serata, grazie ai suoi quadri esposti, è stata ricordata anche una donna aquilana e l'area Fia Biocchi prematuramente scomparsa, premiata la figlia.